Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale io sono Krix secondo video di oggi infatti auguro ancora ragazzi a tutti quanti una buona vigilia spero che questa vigilia la stiate passando al meglio Oggi sono qui dove come avete detto dal titolo vi mostrerò tutti diciamo i regali ecco che possiamo avere in questi giorni di Natale su GTA Online Prima di iniziare ragazzi mi raccomando pollicione in sub bomba che a me fa veramente tanto piacere e mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti E niente ragazzi volevo fare questo video breve dove insomma anzitutto come potete vedere dal gameplay vi sto mostrando ragazzi la nostra mitica Los Santos innevata Nulla da dire sulla neve la mettono ogni anno verso questo periodo e ogni anno ragazzi a mio parere resta una delle texture più belle seppur che ha anche dei lati negativi ok Però resta comunque ragazzi a mio parere una delle texture più belle che Rockstar potesse inserire nella mappa di GTA Online Durante il periodo di Halloween diciamo che aveva messo un filtro alla nostra visuale che rendeva il tutto un po' più macabro però onestamente ragazzi preferisco mille volte la neve Anche se come sappiamo tutti insomma i veicoli sbandano molto quindi possiamo dire che in un certo senso la neve è abbastanza realistica ragazzi Cioè anche nella vita reale le macchine non è che insomma tu giri lo sterzo e girano tutta una botta ok Quindi da una parte mi fa piacere che Rockstar abbia preso un po' diciamo spunto dalla vita reale per creare diciamo la dinamica o comunque la fisica della neve insomma E appunto ragazzi ogni anno vi posto questo video insomma per farvi vedere com'è lo santo sinnevata Quest'anno però ho deciso di aggiungere un po' di voce per farvi sapere anche che appunto ci sono dei regali che potrete ottenere facendo accesso questa settimana in GTA Online Per chi non lo sapesse infatti il giorno 23 dicembre Rockstar Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento settimanale Ci ho fatto il video lo trovate nella descrizione sostanzialmente insomma oltre ai bonus eccetera che abbiamo riguardo appunto la settimana Insieme ha anche rilasciato la neve e i contenuti del DLC di Natale troverete appunto il video nella descrizione Faccio questo video per ricordarvi quali sono i regali che potrete ottenere facendo accesso durante il 24, 25 o 26 Riguardo il 30 e il 31 ragazzi non so se avremo dei regali io spero di sì comunque sia I regali che potrete avere oltre chiaramente al nuovo veicolo gratis sono questi che state vedendo nel video Quindi oltre alle classiche munizioni, cannone pirotecnico eccetera Quest'anno ragazzi Rockstar ci ha dato anche una maschera che sarebbe questa che state vedendo nel video La potete trovare andando su animali e questa maglia festiva dedicata appunto al Natale parte del DLC dei Contract Infatti facendo accesso se ancora non l'avete fatto cioè nel senso se dal giorno 23 non siete ancora entrati in GTA Online Ragazzi entrateci e avrete la possibilità di sbloccare tra virgolette questa maglia del DLC dei Contract dedicata al Natale E questa maschera diciamo a forma di pesce Inoltre facendo accesso sempre questa settimana sbloccherete anche quest'altra maglia con la mazza da baseball dedicata al GTA 3 Fate l'accesso per ottenere queste ricompense Volevo anche farvi sapere che Rockstar sempre con l'aggiornamento settimanale del 23 Ha rilasciato due nuovi veicoli parte del DLC dei Contract di cui uno gratuito Quindi sostanzialmente diciamo che Rockstar oltre a averci dato queste ricompense Ci sta dando la possibilità di comprare questo nuovo SUV gratis gratuitamente Ora io chiaramente ragazzi sconsiglio l'acquisto anche perché insomma se cercate su YouTube le recensioni di questo veicolo Scoprirete che non è un veicolo diciamo chissà quanto P nel senso quindi potrete anche farlo a meno Però la nota negativa è che se non lo comprate in questo periodo che è gratuito dovrete aspettare il 2022 Almeno a come dice Rockstar perché appunto verrà rilasciato ufficialmente per tutti per l'acquisto Quindi un po' come l'anno scorso che misero la Brioso 300 nel periodo natalizio Per poi appunto l'hanno rimossa dal gioco e poi la reinserirono più avanti nel tempo Ok quindi faranno anche qui ragazzi la stessa cosa però con questo SUV Il SUV ragazzi è questo che state vedendo nel gameplay che sto modificando Si chiama Baller ST e appunto per questo periodo sarà gratuito Quindi se non lo comprate in questo periodo dovrete appunto aspettare l'anno prossimo Quando Rockstar lo metterà comprabile per tutti Quindi in questo periodo è gratis altrimenti costerà un prezzo di 890.000 dollari non scontato Mentre un prezzo circa di 670.000 dollari col prezzo scontato Oltre a questo SUV e queste ricompense ci sono anche due nuove livree E sono queste che state vedendo nel video Chiaramente applicabili gratuitamente da un qualsiasi Los Santos Custom della città In particolare abbiamo questa livrea per la Baller ST E quest'altra livrea invece per la Comet S2 Cabrio Che non è ancora stata rilasciata nel gioco Io mi chiedo perché darci una livrea in regalo se la macchina sulla quale la dobbiamo mettere Non c'è ancora nel gioco Cioè Rockstar Logic Però a parte questo signori queste sono le ricompense Quindi le classiche scorte di snack, giubbotti e munizioni Il nuovo veicolo acquistabile come appunto regalo da parte di Rockstar Games Le livree ed infine ragazzi abbiamo la neve Insomma come potete vedere Niente signori quindi volevo semplicemente ricordarvi di queste ricompense Quindi fate l'accesso Un'ultima cosa c'è anche un'altra livrea sempre per un veicolo del DLC The Contract Ovvero la Enus Deity Questa livrea ragazzi sembra dedicata in un certo modo al Natale Quindi io credo che facendo accesso domani 25 quasi sicuramente avremo gratis questa livrea Che poi potremo applicare Quindi mi raccomando ragazzi fate accesso Per quanto riguarda la neve prima che voi possiate farmi domande Ragazzi dato che l'aggiornamento settimanale terminerà il 29 Io sono abbastanza sicuro che Rockstar Games terrà la neve fino al giorno 6 gennaio 2022 Dato che appunto il 6 sarà un giovedì E anche il 29 sarà No in realtà il 29 è mercoledì Però io credo molto probabilmente ragazzi che Rockstar terrà la neve O fino al primo gennaio o fino al 6 La mia supposizione è più per il 6 e non per mercoledì 29 Però insomma ragazzi staremo a vedere Io detto questo signori vi saluto Vi lascio al gameplay insomma della neve Gustatevelo e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate Vi ricordo sempre tutti i social in descrizione Venite ragazzi a seguirmi su TikTok Perché ho caricato anche lì questo gameplay della neve Però senza commentari E niente signori io vi auguro una buona vigilia Credo che per oggi non riuscirò a postarvi altri video Quindi ci vediamo stasera in live Mi raccomando signori non mancate Detto questo da Krix è tutto Io vi saluto vi ringrazio ragazzi Noi come al solito ci si becca con un prossimo video Prossima live o un prossimo glitch Ancora una buona vigilia a tutti quanti Bella Waijuu Noi come al solito ci si becca con un prossimo video Ciao Ciao Ciao